Ladies and gentlemen All the happy people This is showtime A belli da casa A belli mia iscrivetevi al canale A bravatevi al canale di No Profits Se non mi piace quello che dico non ve lo dico Levatevi dal canale Il momento dove la democrazia E come la voglia di giocare a pallone Della Lazio E dei suoi giocatori Vi lascio fare come vi pare A belli mia Tutto a posto Oh non mi venite a parlare Che ci ha detto male Non ho qui Cioè se volete di una cazzata del genere Fuori dal canale Pure Laziali Se mi venite a dire oggi che ci ha detto male Se mi provate a venire a dire Eh però ci ha detto male Perché a momenti Harry Potter gli spacca la ragnatela Andatevi a fare un'altra parte I numeri parlano I numeri parlano Sull'1 a 1 Ok 12 tiri in porta a loro 2 tiri in porta a noi Il primo tempo Che l'abbiamo finito Che vinciamo 1 a 0 E' mosculato E' mosculato Che abbiamo vinto il primo tempo 1 a 0 Se volete farvi dire i cazzate Andate da un'altra parte Non ci venite da me Ok Il primo tempo presi a pallonate Due azioni Zacca sembrava eh Petro Zaccagni ha rifatto una grandissima partita Eh Petro penso che si è fatto male A fine del primo tempo si è fatto male pure Zaccagni Senza le due zavorre A proposito io voglio vedere il referto medico eh Oh io voglio vedere il referto medico che te sei fatto male eh Io voglio vedere i come diceva il pomata i ritagli Io voglio vedere i ritagli che te sei fatto male eh A bello da casa E io mica c'ho 12 anni che me vi per culo Comunque con le zavorre Come mi è stato detto l'altro giorno su Instagram Con le zavorre Anzi senza le zavorre C'è il centrocampo dell'Armino Leffe Perché oggi Levi a GoPro Entra il fratello brutto Gemello Giovane De Hernanez Che pezzi era l'unico che a momenti stava Ehm Rar Dobbiamo comprare due centrali ci servono Rega no uno due Anche tre Perché uno vuole No Quell'altro è un anno e mezzo che non ci sta a capire un cazzo eh rega Io poi quando ho detto Quando ho tirato a fare quel discorso che non ci sta a capire più un cazzo Ma non mi venite a dire le cazzate Eh Oggi Santo Thomas è il primo tempo Ciao Ciao Sì ma arriva subito Due minuti Cioè che vi devo dire Che vi devo dire Spiegatemi voi come fai Come si fa Non sei capace a tenere il risultato E niente Poi dopo le seconde linee T'hanno dimostrato Entrato uno per fare la sconda Non ne ha fatta una dritta E' colpa dei sari certo E' colpa della squadra di più E' colpa di chi fa la progettazione certo Quindi Vittoria meritatissima del Sassuolo Ci batte sui passaggi fatti Ci batte sui tiri fatti Ci batte sui calciotangoli fatti Ci batte sull'accuracy del passaggio Sulla precisione dei passaggi E' mo' vinto solo Nel Nello spazio percorso Ci siete di corso di più E grazie al cazzo Ci hanno fatto una capoccia Così a girarli dietro Sveglia Sveglia Eh Sveglia Comunque io eccomi Ci sarò sempre Sapete perché? Perché pure quando adoro la soterra Io volo Il resto in quanto essere Io Laziale Come i laziali Noi volamo E l'altro li strisciano Se non sapete perché Chiedete a Trilussa